Quanto l'inquinamento del fiume Sarno influisce sulla salute umana dei cittadini che risiedono nell'area bagnata dal bacino idrografico ritenuto tra i più inquinati d'Europa? Apporsi il quesito ed apporre l'attenzione sulle patologie mediche in aumento sul territorio non sono le istituzioni, bensì un coordinamento civico Difendiamo Salute Ambiente, del quale fanno parte numerose associazioni di cittadini ed il Rotary Sezione Nocera Sarno che hanno dato in là ad un'indagine conoscitiva sulla presenza di sostanze tossiche o nocive presenti nelle acque, nel suolo, nei vegetali lungo la valle del Sarno ma anche un monitoraggio degli effetti causati da esposizioni ad inquinanti ambientali sulla mappa genetica umana del DNA. Abbiamo approfondito l'argomento nella trasmissione Parliamone che ha avuto stavolta come location il parco Cinque Sensi a Sarno, l'area dove nasce il fiume Sarno e dove l'acqua è limpida e pura. Il parco Cinque Sensi si trova accanto all'acquedotto che distribuisce l'acqua a gran parte dei comuni del Napoletano, l'acqua che sorge pura per poi contaminarsi a valle nella confluenza con solo frana e cavaiola e che si trasforma e che trasforma in un fiume di veleni i cui effetti sulla salute umana si rivelerebbero catastrofici proprio il fiume Sarno. Non parliamo di effetto ma parliamo di esposizione perché l'esposizione prevede anche che ci sia una reversione. Quindi ciò, coloro che risultano esposti, non è detto che abbiano degli effetti poi definitivi. E quindi noi preleviamo il sangue periferico di giovani, come diceva giustamente lei, tra i 18 e i 30 anni e lo esaminiamo, esaminiamo i linfociti contenuti nel sangue e andiamo a valutare se i nuclei di questi linfociti subiscono degli insulti genotossici. Più le acque che l'uomo erano indispensabili perché le acque, praticamente dalle acque noi abbiamo tutta la filiera vive sulle acque. Considerando che qui nel 2000 sono stati fatti 5.000 pozzi nell'Agronocerini per conto della provincia di Salerno i quali pozzi ancora non conosciamo gentilmente precisi ma soprattutto non erano cementificati quindi erano ad assorbimento. Qualora ci fossero dei contaminanti, questo tipo di pozzo ha trasmesso a tutta la falda acquifero questi contaminanti. Quindi in effetti a noi ci interessa molto l'acqua perché l'acqua è quella lì che si irriga, quella che si beve, quella che viene nelle nostre abitazioni, quindi diciamo che era un elemento fondamentale da valutare. Perciò siamo andati a prendere l'acqua nei pozzi, siamo andati a prendere l'acqua che sgorga nei terreni perché l'Agronocerino galleggia sul terreno a un metro, si trova l'acqua sotto, abbiamo una ricchezza di acqua incredibile quindi in effetti l'elemento acqua diventa un elemento importantissimo di valutazione diciamo nella catena, lungo la filiera agroalimentare.